Sono Giuseppe Cocco, viaggiatore del Grand Tour e vi racconto il viaggio in Italia in compagnia del viaggio autore calabrese Corrado Alvaro e del suo libro Guida itinerario italiano del 1933. Colori di Genova. Il carattere e la struttura di Genova sono fra i più gelosi e non è strano che molti viaggiatori li abbiano sfiorati senza capirli. Poiché Genova offre monumenti illustri quasi per caso, non gravita intorno ad essi, non si è fermata a una stagione della propria vita né a un tempo né a un costume, ma li comprende tutti, dal muro a strisce bianche nere dell'anno 1000 fino al palazzo floreale della Borsa e tutti i suoi monumenti sono schierati lungo lo scoglio cui aggrappata senza più spazio di quello che la città concede a una qualunque abitazione. L'idea che balenò qualche anno fa di riscoprire quello che poteva rimanere di Genova medievale e comunale, fortunatamente non fu mandata a effetto. Era come voler mettere ordine in un blocco unito, atteggiato nella sua architettura dalla natura e dal tempo. Deve rimanere assai poco sotto il muro del 7 e 800, della pietra ad una volta. Forse non si riguadagnerebbe il carattere antico, si perderebbe quello nuovo che è singolare, la cui importanza sta nella sua continuità di vita ed animo. Si può immaginare quale fosse Genova nel suo tempo comunale mettendo insieme i ricordi genovesi disseminati nel Mediterraneo fino al Mar Nero. La pietra scabbra, quel tanto di ciclopico che l'architettura genovese ha portato fino alla Crimea, quasi un ricordo della città costruita nel sasso. E lo stesso aspetto dei magazzini che si vedono ancora oggi a Costantinopoli, costruiti come fortilizi. Questa uniformità dello stile dei genovesi è il loro carattere più vecchio, anche perché dettato dalla somiglianza del terreno dovunque siano sbarcati. Si sono dovuti sempre arrampicare, porsi tra monte e mare. Ricordo in una brumosa mattina di primavera l'ultima torre genovese del Bosforo che di lontano dispone al tronco della torre di Galata. In tutto quello che è architettura genovese v'è un'estetica del perpendicolare, del panoramico. La torre domina, cilindrica, come un silo. Nelle più antiche chiese genovesi la cupola è tutt'uno col campanile. È piantata nel mezzo della chiesa dove solitamente si leva la cupola. Dal punto più alto della città, dal castellaccio, si può studiare bene la struttura di Genova. Tra le fratte e i pini marittimi ci si ritrova con quei gruppi che nelle vecchie carte panoramiche siedono fra gli svolazzi del titolo. Un bimbo raccatta sassi. Una ragazza col suo cane segue l'entrata delle navi in porto. Un gruppo di scolari ripete la lezione per gli esami. Quando si determina il rialzo dei prezzi? L'ardese grigia e azzurra dei tetti della città forma un lastrico compatto che si alza e si abbassa a seconda del terreno. Sembra precipitare in disordine negli avvallamenti. Scorre per i pendii come un fiume. È difficile scorgere una strada o la facciata di una costruzione. Solo qualche cupola emerge come su uno specchio. Dal più alto al più basso i tetti sembrano quasi aiutarsi a salire ma senza quasi dislivelli repentini fin dove in alto la città non è più che un'ultima casa bassa. Un orto, un vicolo stretto, fra due muriccioli lastricato nel mezzo di mattoni rossi disposti per taglio. Paesi arrampicati sul declivio del monte con la bizzerria degli edifizi intorno a cui corre e serpeggia la medesima strada che li tocca al pian terreno e girandoli sovrasta all'ultimo. Edifizi da una parte sono di sette piani che da una parte si sono di sette piani e più su sembrano di un piano solo con un'uscita sotto e una sopra se ne vedono lungo la costa del Tirreno fin verso Amalfi ma una grande città costruita tutta a questo modo diventa un capolavoro. Essa appartiene all'internazionale dei paesi marini, ne è una capitale. Stando a Genova all'improvviso come per un vago odore o ricordo o suono vi ricordate di cento altri luoghi diversi. Esiste nel profondo della vita del Mediterraneo tra la gente migliore una razza unica cui è difficile assegnare altro ceppo che il mare. Dovunque vadano o che proprio la loro scelta cada su terre difficili per la necessità di abitare gli approdi rifanno aspetti di vita simili fra loro. Beh una forma di costruzione, un modo di abitare che si somigliano nei luoghi più diversi del Mediterraneo. Forse per questo a chi viaggia sembra che i vecchi luoghi sul mare siano stati sotto un solo impero. Beh qualcosa della nave nel loro disporre i paesi. Torri castelli e fortezze ricordano i magazzini e questi ricordano quelli. Il rosso e il rosa sono i colori delle loro case. Anche sulla costiera di Amalfi l'architettura popolare si adatta alla montagna con le sue scale lunghe come viottoli dando il senso di un'altura resa praticabile in cui alla fine ogni accidenza del terreno è sfruttata a scopi di architettura. A Genova e Liguria si trova poi una forma di città e di abitazione che nella costiera napoletana è appena accennata. La casa altissima lungo i porti e gli sembrano enormi vocabolari allineati. Questo mi parve curioso a Portodischia quando lo vidi la prima volta. Ma in Liguria tutto questo è svolto in grande al punto da ricordare un'altra curiosità architettonica. i grattacieli del porto di Nuova York. La ristrettezza dello spazio impone dovunque le sue necessità come si vede e sulla ripa di Genova si allineano i grattacieli come li poteva concepire il 7 e l'800. Edifizi stretti e alti, le finestre lunghissime e strette. Beh un senso di vicinanza nelle facciate strette e nelle finestre vicine. Questi edifizi si puntellano l'uno con l'altro, i colori li distinguono. Hanno vivi colori, superfici lisce ma decorate spesso di false prospettive, bugnature, cornicioni, archi, finestre con gente a facciata, tutto ripinto. Queste decorazioni danno l'impressione di scenari del Settecento, tempo del teatro e delle grandi fortune marinare. Così il parallelepipedo della casa prende un colore teatrale di semplice lusso, leggero, lontano, quasi irreale, che a certe ore, nella luce della sera, perde il senso del volume e non è più che colore e illusione di scena. Ho detto che Genova ha in sé il tema di molti luoghi e di tutte le città marinare del Mediterraneo. A un certo punto l'architettura piemontese si fa sentire, come in quella piazza e chiesa Carignano. Più oltre appare una strada, attraversando un ponte che ricorda vecchie città del nord. Tra casa e casa a un tratto appare il mare, si respira il forte odore del porto e viene a mente come in un altro porto lontano lo stesso odore si mescoli alla nebbia e al fumo del carbone. Dovendo profittare di tutti i capricci del terreno, Genova si configura nelle forme più diverse. Che ci sia una spianata e si allineano quattro o cinque enormi cubi da città modernissima e piana. Poi le strade che dividono questi edifizi sfogano da una parte e dall'altra su un panorama di tetti più bassi, sul cielo, sul mare e il cubo monotono della casa moderna, che richiama la memoria città orizzontali, è sospeso in alto come a una gru. Dai pianerottoli, bastioni, muraglioni, si scorge il quartiere sottostante con le sue convergenze di scale, le rotonde dei muraglioni che arginano uno sprone del monte e formano un nuovo principio di strade, strade che ricominciano sempre da capo. Sugli spiazzi elevati tra i muraglioni appaiono d'improvviso, uscendo dagli ascensori che trivellano la roccia, i vestiti all'ultima moda, un'umanità indaffarata. È difficile dominare la città, più si sale e più si chiude il lastricato dei tetti, non si scorge aperto che un quartiere per volta. Dalle luci sfolgoranti dei luoghi alti si passa a luci di acquario. Sul grigio panorama dei tetti le terrazze delle case sempre o quasi sempre a livello di una strada più alta c'è una pennellata di verde, il giardinetto col basilico, menta, le piante odorose che condiscono la cucina genovese, riassunto delle cucine del Mediterraneo. Basta che si apra una piazza su una dimensione insufficiente del terreno, come nel sestiere di Portoria, in piazza Sarzano, perché la vecchia piazza popolare italiana, bolognese o napoletana o lombarda, appaia coi suoi colori stinti e tenaci, il giallo e il rosso e il senso di ritrovo di ragazzi di sera chiassosa, di mercato settimanale. Dove lo spazio si restringe, là è il più vecchio colore di Genova, quello che essa possiede in modo unico, piazzette nelle piazze, edifizi contenuti fra altri edifizi, come in una custodia. La chiesa di San Matteo della Spina o il palazzo Doria, cento altre chiese e palazzi di Genova. Sono tra grandi edifizi che sembrano coprire cotesti monumenti quasi con loro stesso tetto. Il sole vi si fa strada a fette, a triangoli, dagli spiragli fra casa e casa, come se entrasse da finestre in un luogo chiuso. Qui si ha il senso della vecchia città, di piccoli monumenti arcaici imprigionati tra costruzioni del VII e dell'Ottocento, come è raro vedere altrove, la misura antica contenuta nella popolosità e smirsuratezze moderne. Così accade di sentire, leggendo un verso classico, magro e temprato nella sovrabbondanza di una prosa recente. Vi sono edifizi dove le scale seguono nell'interno la pendenza del monte, lunghe, dritte, quasi vie naturali che immettano in un regno di natura sulla cima di un monte. Raggiungono il pianerottolo, molto in alto, più in alto di quanto si pensi, come succede a chi va in montagna, dando danno in grandi stanze profonde in cui la luce filtra con un colore marino. Chi si è trovato qualche volta in un palcoscenico su cui è disposta la scena di una strada e ad aggirarvi si prova l'impressione di essere fuori e nello stesso tempo in un interno. Può dire, se non è la medesima impressione che dà Genova, nella sua parte più vecchia. Si è sicuri di percorrere una strada, ma nello stesso tempo sembra di aggirarsi in un interno, tanto che è causa di continuo stupore vedere aprirsi in questa incredibile dimensione, porte e androni, cortiletti e interni. Gli interni sono la continuazione della vita della strada. La strada è coperta, in ombra, intima, come una casa. È come un grande palazzo diviso, una galleria coperta, fino a sottoripa dove si sente, nel portico schiacciato, il peso della città intero, come si sente il peso di una roccia e di una grotta sul mare.